Grazie alle autorità che sono qui intervenute, al Ministro Nordio, al Sattosegretario Butti, al Procuratore Nazionale Antimafia. La presentazione avviene, come vedete, con la partecipazione del Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, la partecipazione dell'autorità delegata alla Cyber Sicurezza Nazionale Alfredo Mantovano. Vorrei anche ringraziare di cuore Marco Camisani Calzolari, docente universitario, scrittore di saggi e con un'importante attività di consulenza a favore delle imprese e anche, come vedete, oggi dalle pubbliche amministrazioni. Allora, noi viviamo tutti nel mondo digitale e la cosa incredibile è che ci vive anche chi non lo usa. Ogni cosa che fa durante la sua giornata è digitale. va al supermercato, le casse sono connesse e quindi per funzionare hanno bisogno di una rete, di internet, spesso va al banco, ma ovviamente anche quello è connesso. La radio, che apparentemente è analogicissima via FM, in realtà per funzionare ha bisogno di reti, di internet e banalmente i contenuti arrivano da lì. E anche dal punto di vista chiaramente delle istituzioni, che devono supportare la crescita e le opportunità che da questo. E abbiamo molte istituzioni in Italia che lo fanno. Il Dipartimento per la trasformazione digitale, guidato da Alessio Butti, si occupa di questo. Ci sono la polizia postale. E le infrastrutture, quelle sono quelle che fanno funzionare il Paese. Alcune sono particolarmente critiche e rientrano nel perimetro nazionale. E altre, invece, come dire, apparentemente lo sono meno, ma in fondo in realtà sono delle porte d'ingresso. E non sono meno importanti di quelle fisiche. Proviamo a immaginare per un secondo una vita senza internet. Cioè, immaginiamoci un momento in cui improvvisamente ci troviamo senza internet. E quindi andiamo al supermercato, non ci danno da mangiare, non ci danno la spesa. Andiamo al banco, ma non ci danno i soldi. Noi riusciamo a telefonare, come abbiamo detto prima. Dopodiché vogliamo cercare qualcosa per vedere cosa è successo sul motore di ricerca. E quello ovviamente non funziona. Già a GPT non ne parliamo. I social nemmeno non ci danno risposte. Whatsapp pure non funziona. Accendiamo la televisione. E i giornalisti dicono, non abbiamo abbastanza informazioni, perché anche qua non funziona nulla, ammesso che riescano ad arrivare. Prendiamo la macchina. E il GPS non va, perché ricordiamoci che anche quella è una rete. GPS o il sistema europeo. Anche quella è una rete. Non necessariamente fatta solo di internet. Quella è un protocollo, TCP, IP. Ma è anche una rete. Quindi non ci rimane che la radio. Si sentirà qualcosa via FM, ma pure loro saranno in grosse difficoltà. Ci chiudiamo in casa e diciamo, vabbè, guardiamoci qualche vecchia foto di famiglia. Eppure quelle le abbiamo sul cloud. Ecco, questo, un mondo spento così. Fortunatamente, no? Giustamente c'è chi dice, vedo la gocciolina. Non l'abbiamo mai sperimentato. E fino ad oggi non è mai successo, anche grazie a chi lo difende. Siamo noi umani la parte debole di un computer. Perché è il punto d'ingresso. Il 99, adesso io sparo una cifra così percettiva, poi ovviamente le autorità lo diranno in modo più preciso, ma degli attacchi che vediamo, l'ospedale fermo, le cose. Non è perché c'era una mancanza di capacità tecnica. Perché una persona che aveva accesso al sistema ha cliccato su quell'offerta straordinaria con il telefonino a metà prezzo. Allora, per fare quello che fa il CN si vuole, deve fare prevenzione, perché ovviamente deve preoccuparsi che le persone siano consapevoli, che i sistemi siano adeguati. Deve fare formazione, consapevolezza, deve creare e fare ricerca, perché cambia tutto. Voi non avete idea di quanti ogni giorno nascono migliaia di, nel mondo hacking si definiscono zero days, cioè, ovvero, vulnerabilità che vengono scoperte, vengono rese disponibili. Di solito c'è un mercato ricco, vengono vendute a centinaia di miliardi di euro, quelle più importanti. Sono molto onorato di essere qua, che non tutti pensano che l'informatica sia la cosa più appassionante del mondo. Però a volte lo è, se vista dal punto giusto. Per cui, grazie a tutti. Ringrazio Marco Caminiani Caldovari per il suo intervento e do la parola al presidente del Copesir, Lorenzo Guerini. Grazie. Grazie. Le valutazioni che sono state fatte da Caminiani Caldovari, questa dimensione ha a che fare con la nostra vita e quindi con la vita di tutti noi, la nostra vita individuale, la nostra vita nelle strutture. Anch'io vorrei ringraziare i ministri, i sottosegretari presenti, i vertici dell'intelligence, il procuratore nazionale antimafia e in modo particolare il presidente Guerini. Se mettessimo insieme quello che ha detto Caminiani Caldovari con Antonio Gramsci, potremmo dire che se quando anche tu non voglia interessarti del digitale, il digitale si interesserà di te.